è un calorosissimo e sincero boglia de mau a tutti gli iscritti di sala giochi 1980 ciao ragazzi buongiorno buonasera buon pomeriggio buonanotte a seconda di quando guardate il video siamo ancora qua la nostra rubrica dedicata appunto alle medaglione di zap dello zappone nazionale ragazzi vediamo già qua dalla questa schermata insomma della pagina iniziale della copertina di zap lo zapp in questione è il numero 81 pensate del settembre del 1993 data molto molto scaltra molto brutta anzi che scaltra in centrania è brutta data perché perché di lì a poco zap insomma già stava uscendo come allegato a the game machine se non sbaglio insomma con pochissime pagine e poi di lì a poco ci mettea una croce sopra perché insomma non sarebbe stato più disponibile in edicola quindi l'era degli 8 bit purtroppo stava finendo anche se oggi a distanza di tanti anni insomma è più viva che mai però all'epoca insomma stava finendo proprio gli 8 bit stavano lasciando spazio a ben altre cose i 16 bit eccetera e poi ai 32 della playstation che di lì a poco arriveranno con prepotenza nelle nostre case allora oggi ragazzi appunto parliamo il numero 81 settembre 93 dove nel quale viene recensito un gioco che si chiama troll trolls trolls ragazzi non so se vi ricordate che negli anni 90 primi 90 c'erano c'erano delle bamboline dei di io sinceramente non mi ricordo di averli sentiti ma sicuramente nel 93 avevo 20 anni quindi non giocavo sicuramente con i trolls però insomma andavano abbastanza di moda all'epoca erano questi pupazzetti con sti capelli sparati no insomma colorati come vediamo qua dalla schermata di zap e nel 93 appunto esce questo gioco che si chiama trolls semplicemente come le bambole le bamboline della flail software limited e per comodo 64 però parliamo un po partiamo da prima il gioco esce originariamente nel 92 su amiga e su ms dos e poi viene riportato su amiga cd 32 e su comodo 64 appunto l'anno successivo che il 1993 si tratta di un platform game che appunto basato su questi pupazzettini insomma che si chiamavano così e le versioni c'è da dire che sono un po diverse perché chiaramente quella per comodo 64 è la versione un po più castrata chiamiamola così perché non ci sono tutti i livelli perché non è insomma il gioco originale per amiga presenta altri livelli qua se non sbaglio ci sono tre mondi da due livelli ciascuno quindi sono sei livelli in totale invece su amiga ce ne erano molti di più su amiga e su dos bisogna insomma andare in giro per questi livelli bisogna trovare i baby trolls almeno tre per poter lasciare il livello e poi andare insomma a livello successivo e partire e fare altre cose all'inizio non avremo armi potremo solo saltare sulla testa di nemici non tutti perché alcuni ci uccideranno comunque e poi si troverà strada facendo uno yo yo che servirà appunto per uccidere i nemici per rompere dei sassi dei massi che svelano dei passaggi e anche per potersi dondolare da una parte all'altra di determinate sporgenze che non è facile però con un po di pratica ci si riesce insomma quando si padroneggia quello si può passare anche attraverso dei baratri dove non potremo passare se no dondolandosi appunto con lo yo yo e altra cosa che volevo dire che avevo pensato a delle durante il gioco si possono raccogliere prendendo dei palloncini possono rivelare delle lettere che scrivono bonus o bogus a seconda alla fine del livello si è scritto una l'altra parola allora bonus ti dà accesso a un livello segreto un livello extra chiamiamolo così dove ci sono da recuperare le vite che sono molto importanti perché il gioco è molto difficile secondo me almeno per me invece se scrivi bogus ti dà accesso a un livello bonus che però devi portarlo a termine il prima possibile entro un certo limite di tempo perché sennò perdi una vita quindi da bonus diventa un porco de mao perché da bonus diventa una penalizzazione altre cose ragazzi le vedremo soltanto vivendo io nel frattempo togliamo la copertina vi faccio vedere la super recensione che è questa questa ragazzi è la recensione che uscì appunto in questo numero 81 del settembre del 1993 eccola qua 64 flail qua su disco e cassetta insomma c'è tutta la spiegazione con la medagliona d'oro che sta lì bella piazzata e con un bel 90 per cento appunto sulla pacella che poi andremo a vedere con più calma verso la fine io direi di andare a vedere il gioco andiamo a vedere il gioco che è quello che più ci interessa prendiamo il paddone e andiamo direttamente a vedere questo trolls non c'è musica ci sono soltanto gli effetti sonori durante il gioco io sto prendendo il pad in the frattempo come dicono i francesi vediamo qua c'è la schermata di caricamento potevo anche toglierla però è più bello così sembra più vero insomma no se mi vedete combattere e attendere insieme a voi se no era troppo facile eccolo qua get ready to play candy world eccolo questo è il nostro trolls vedete ecco è un po all'inizio è un po difficile da controllare ho detto che il livello di difficoltà ragazzi è abbastanza alto e infatti ho preso le vite infinite onde evitare di cadere nel ridicolo insomma e durare 30 secondi sì e no vedi col tasto si salta c'è si può variare la direzione eccoli qua i palloncini vedete che possono avere lettere o altre cose agli aeroplanini questo qua non si possono uccidere in alcun modo agli altri ad altri non tutti ecco fatima ma ciao si può saltare sulla testa a modi super mario a modi super mario per ucciderli eccolo qua il primo troll se l'assù lo andiamo subito a salvare vediamo vai eccolo qua un troll salvato e poi infatti mi scrive uno quando ne abbiamo salvati almeno tre per livello possiamo accedere al livello successivo difficoltà veramente importante ma è molto ben fatto molto ecco qua i candele lì che madonna e quelle pure non si può ma sai i kunichi kunichi mazzamoli poi ci rimaniamo ci sono appunto come dicevo prima dei nemici che possono essere eliminati altri no ho preso un altro eh vedi vedi allora la scelta di fare uno schermo così di gioco un così ridotta insomma è un po penalizzante secondo me perché perché è molto difficile vedere quello che c'è sotto e quello che c'è sopra quindi certe volte ti trovi a dover fare un po andare come dico io per tentativi a naso 4 nemmo salvare addirittura possiamo già accedere al prossimo livello eccolo ok l'aeroplanini che l'aeroplani come te tocca te massacra anche se gli passi da sopra ecco e candele pure un'altra cosa ragazzi vi troverete io già avevo finito perché se non avevo messo le vite infinite già dovevamo ricominciare da capo da qui insomma vi potete già capire la il livello di difficoltà di questo giochillo perché pensate insomma che se io non c'avevo le vite infinite già avevo finito il la partita e dovevi ricominciare da capo quella chissà la su ci si può stare molto attenti a tutto perché come te muovi te sbagli di una virgola e ecco tipo qua salvi e questo ma attenzione all'aeroplanino perché l'aeroplanino l'aeroplanino come rudocchi deformina infatti ma forminato senza nemmeno dire niente che chi me sbaglio bisogna imparare la memoria ragazzi purtroppo posizioni qualsiasi cosa d'occhi chiede ma perché il cilindro lì il il coniglio col cilindro non si può ammazzare manco se gli sa oh signore ragazzi veramente veramente gioco di una difficoltà però niente bisogna imparare a memoria posizioni perché se non pari a memoria le posizioni te puoi solo che incazzare come sto facendo io si vedi 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 il gli si può saltare su no e dai ma porca eva è una cattiveria comunque ragazzi colorato grafica bellissima sarebbe stato bello insomma una musica non avrebbe guastato una musica di sottofondo però diciamo che comunque il buon zappone gli ha dato 90 per cento ragazzi e sicuramente non è cosa da poco io sinceramente se un gioco prendeva 90 per cento non che tutto quello che 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 diceva qua c'è la fine del livello proviamoci ci ho creduto ci ho creduto quello che diceva zappe non è che era leggi insomma ragazzi non era leggi nel senso che se loro diceva che era bello un gioco era bello però spesso erano abbastanza obiettivi io secondo me è un bel gioco poi qualcuno potrebbe un po come dico storcire il naso e dire ah ma troppo difficile ah ma generano altri 100 uguali platform così era pieno insomma all'epoca io questo non lo metto in dubbio però diamo a cesare quel che di cesare perché secondo me si tratta comunque di un ottimo prodotto per il commerce 64 uscito come dicevo quando ormai il tempo massimo degli 8 bit purtroppo stava scadendo almeno come ripeto per l'epoca perché sono più vivi che mai perché c'è tutto un sottobosco di persone che per diletto o magari anche per guadagnare qualche sordo programmano ancora su commerce 64 quindi insomma non è assolutamente vero che gli 8 bit sono finiti non è assolutamente vero sicuramente è faccia di un po dei peccati ecco come come adesso sto per fare io perché vedi eh ragazzi perché non è facile a controllarlo quando te te muovi è bello che puoi controllare il salto mentre sei in salto puoi puoi controllare la come si dice la direzione traiettoria mentre sei in volo questo è un bene perché se no tanti giochi start ita e dei spetta solo invece qua poi anche direzionarlo come meglio crea o niente ragazzi chi veramente veramente fatto posta per fatta incazzato gioco veramente stato programmato con una certa cattiveria come sempre dico io una certa cattiveria programmatica dei sviluppatori gli sviluppatori insomma si sono divertiti questa flare software si è divertita a renderlo sicuramente difficile comunque ragazzi stiamo già a livello 2 considerando che sono 6 livelli in tutto la difficoltà non poteva che essere importante perché già i livelli erano pochi se poi era anche facile insomma in tre partite se finia invece in questo modo beh che roba mamma mia in questo modo c'era una longevità insomma maggiore perché comunque dovevi con matte come una bestia per poterlo finire o perlomeno se non c'avevi i crediti infiniti come sto facendo le vite infinite come sto facendo io non era un gioco alla portata di tutti vabbè ragazzi io spero di averlo fatto vedere io a questo punto se voi non avete nulla in contrario andrei a vedere il pacellone il pacellone che prese in questo zappone vediamo vediamo eccola qua la pacella che ha preso il buon trolls allora presentazioni 80% non male il poster di euro football champ anche se non abbiamo ancora capito a cosa serva amen però lo schermo dei titoli è fatto venino insomma e questo 80% la grafica fluida coloratissima piena di elementi anche se in alcuni punti può risultare un po' confusa e questo è vero perché un po' distoglie l'attenzione sonoro quello che c'è è fatto bene infatti 82% non è che ci sia un sonoro impeccabile però non male appetibilità la versione per amica 1200 è fatta troppo bene come potrà mai essere quella per 64 90% insomma che prende anche qua un buon voto longevità lo scioccherete fino a finirlo 89% quello che dicevo io difficile ma ti attira comunque andare avanti globale non male anche se non è bello come nobbi o intrigante come i vecchi classici alla gianna sister merita comunque appieno la medaglia al valore di zapp e questo ragazzi è quanto ci siamo detti finora abbiamo parlato ragazzi oggi questa puntatona delle medaglie d'oro di zapp abbiamo parlato di trolls del flail software del 1993 per commo 64 uscito prima sua amiga e su ms toss nel 1992 ispirato ai famosi pupazzi appunto omonimi arriva a questa conversione e zapp quando era ormai in chiusura quando stava ormai tirando pulendo gli sgavuzzini togliendo le scrivanie perché stava veramente lasciando il posto ad altro zappone nazionale invece lo regenzisce e gli dà un bel nel numero 81 del settembre del 93 insomma lo regenzisce con un bel 90% io ragazzi penso che oggi vi possa lasciare con un bel applauso per trolls ragazzi ci vediamo qua alla prossima medaglia con saragiocchi 1980 ovviamente e con il buon alex ciao ciao